Presso la sede centrale dell'Istituto Vito Volterra di Ariccia è possibile intraprendere all'inizio della prima media lo studio di uno strumento musicale a scelta tra il flauto traverso, il violino, la chitarra e il pianoforte. I nostri insegnanti sono la professoressa Anna Chiara Pedicino per il flauto traverso, la professoressa Stefania Solazzo per il violino, il professore Davide per il battista per la chitarra e il professore Massimiliano Chiappinelli per il pianoforte. Nel corso degli anni gli allievi dell'indirizzo musicale si sono distinti numerose manifestazioni sul territorio. L'orchestra del nostro istituto ha ricevuto nel 2019 il primo premio assoluto come migliore orchestra nella competizione con altri istituti presso il concorso musicale Città di Latina. In occasione delle imminenti iscrizioni per la prima media per l'anno scolastico 2022-2023 vi aspettiamo per condividere insieme un'esperienza straordinaria, quella di fare musica con gli amici, imparare a suonare uno strumento e realizzare manifestazioni musicali di alto livello. Tutto ciò presso il nostro istituto Vito Volterra in via Strada Nuova, sede centrale di Ariccia. Cogliamo l'occasione per augurarvi buone feste in modo che abbiamo imparato nella nostra scuola, attraverso la musica. Buone feste a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.